mamma si conosci il parco giochi fuori città si ci andiamo un giorno poi vediamo abbiamo sette arrivi 5 partenze 8 rimangono e c'è yoshida nella suite church in tutto qui scherzi col fuoco julie e i tuoi ritardi peggiorano le cose si trovi un'altra soluzione per la sera per me è difficile lascio il mio cartellino per timbrarlo insieme al tuo non so se posso guarda chi c'è i miei cuccioli ho un colloquio per un lavoro sì un buon posto un ottimo posto buongiorno vuoi che ti presenti qualcuno un po simpatico per distrarti mi piacerebbe ma ho davvero mille cose da fare non ti fermi mai io ce la posso fare ciao 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 ciao